20 e 30, buonasera dagli studi del TG2000, in apertura gli aggiornamenti sulla morte di Desiree Mariottini, è stato arrestato il quarto presunto responsabile dell'uccisione della sedicenne, è ganese, ha 32 anni con il permesso di soggiorno scaduto ed è stato rintracciato nella provincia di Foggia. Barbara Masulli. Eccolo il momento dell'arresto, sarebbe lui il quarto uomo ricercato da giorni dalla polizia. Yusif Salia, ganese, con permesso di soggiorno scaduto, avrebbe partecipato alla violenza sessuale e all'omicidio di Desiree Mariottini. E' fuggito da Roma, dal Lazio, si è spinto fino alla tendopoli abusiva di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, che solo pochi mesi fa era stata parzialmente distrutta da un incendio. Si era tagliato i capelli per non farsi riconoscere e nella sua baracca sono stati trovati 10 chili di marijuana e una pistola giocattolo. I primi tre arrestati, invece, saranno interrogati domani a Ricinaceli, i senegalesi, Mamadugare, Brian Minte e Alinno Cima, nigeriano. Tutti e quattro sono accusati di omicidio volontario, violenza sessuale e cessione di stupefacenti. Dunque le indagini procedono a tambur battente e sarà fondamentale l'esito degli esami del DNA che rivelerà a chi appartengono le tracce biologiche trovate sul corpo della sedicenne. Come fondamentali sono stati due testimoni, un africano e una sudamericana, che hanno assistito all'aggressione ma non l'hanno impedita perché avevano paura. La polizia scientifica nel pomeriggio ha iniziato i rilievi nell'ex fabbrica di Via dei Lucani, dove la ragazza di Cisterna di Latina sarebbe entrata in cerca di droga e dove è morta dopo 12 ore di agonia in seguito all'assunzione di un mix di sostanze che gli uomini del branco sapevano essere potenzialmente letali. E mentre la mamma di Desiree, tramite il suo legale, chiede giustizia finché orrori del genere non capitino più, i residenti della zona continuano a tenere alta l'attenzione sulla tragedia di venerdì scorso e a denunciare la situazione di degrado di San Lorenzo, dopo la fiaccolata di ieri e la manifestazione organizzata dalle donne del Rione poco fa, sono stati annunciati per domani due sit-in di segno opposto, uno di estrema destra e l'altro dei partigiani. Rimaniamo ancora a Roma perché nella notte è morto Lello Di Segni, l'ultimo sopravvissuto al rastrellamento del 16 ottobre del 1943 e alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz. Il ritratto lo vediamo nel servizio di Marco Burini. A seguire poi l'intervista di Leonardo Possati a Ruth Dureghello, il presidente della comunità ebraica romana. Chi c'è rimasto qua? Nessuno? C'è rimasto? Perché Fernanda... Fernanda... Fernanda, si d'amore che è morto. È morto. E il figlio che l'altro cuore qua... La domina è morta. Fausto è morta. E oggi è morto chi faceva la domanda. La voce d'uomo fuori campo. Lello Di Segni, 92 anni, ultimo sopravvissuto della retata nazista del 16 ottobre 1943 nel ghetto di Roma. Qui lo vediamo, in questo bel documentario di Shai Tagner. È su YouTube. Basta digitare Lello Di Segni, che gira nei vicoli dove ha vissuto da ragazzo. Poi arriva quel giorno di 75 anni fa e Lello, 17 anni, finisce ad Auschwitz. Con il papà Cesare, che aveva una bancarella al mercato, la mamma Enrichetta Zarfati, casalinga, e i tre fratelli più piccoli, Mario, Angelo e Grazia. Torna soltanto lui dal lagere emblema della Shoah, insieme a pochissimi altri. 15 uomini e una donna, su 1023 deportati. Ma di là che... e poi va qua. Dobbiamo rimangare le cose più brutte della mia vita. Eppure Lello lo ha fatto più volte in questi anni, con la sua inconfondibile parlata romanesca. E chi è più romano di un ebreo che vive da più di 2000 anni nella città eterna? Lello raccontava e raccontava a futura memoria, anzi, presente. Memoria che è strumento meraviglioso ma fallace, diceva Primo Levi. E adesso che è morto l'ultimo testimone? Lello di Segni è l'ultimo catturato il 16 ottobre che se ne va. Con lui se ne va non soltanto l'ultimo appunto dei sopravvissuti di quella razzia, ma anche l'ultimo che poteva testimoniare. L'ultimo che si è speso per raccontare ai giovani nelle scuole qual è stata quell'esperienza, cosa ha significato, quale tragedia la città, Roma, l'Italia intera ha passato 75 anni fa. Il significato è profondo ed è fortissimo perché l'impegno per noi oggi diventa quello a raccontare, a raccontare, a raccogliere quella testimonianza, a raccogliere quel testimone. Perché nelle loro emozioni c'è il senso di una memoria. Noi dobbiamo avere il coraggio tutti di continuare a trasmettere quelle stesse emozioni, quelle stesse sofferenze per impedire che si verifichi di nuovo. Dobbiamo stimolare i giovani a una riflessione. Innanzitutto dobbiamo dargli delle notizie, delle testimonianze, anche in video, produrre documenti, essere pronti a contrastare i negazionisti o peggio ancora le fake news. Dobbiamo avere contezza che devono cambiare anche i metodi di comunicazione, avvicinarci ancora di più appunto a un mondo che comunica in una maniera differente e soprattutto costruire una responsabilità morale, una coscienza collettiva che sia fondata proprio su questa memoria. Se avremo la forza tutti insieme di costruire questa cultura europea, perché è da quello che veniamo, e di costruirla in forma solida, sicuramente il futuro di questi giovani sarà un futuro migliore. Cambiamo argomento di saggi in tutta Italia per lo sciopero nazionale di vari settori, dalle scuole alla sanità e ai trasporti. L'agitazione di 24 ore finirà fra poco alle 21 di questa sera e ci sono stati cortei anche a Palermo, Firenze e Torino. Ce ne parla Clara Iatosti. Ancora una giornata difficile per il nostro paese e soprattutto per chi usufruisce dei servizi pubblici. È stata vissuta di corsa e in salita a causa dello sciopero generale proclamato da alcuni sindacati di base. A singhiozzo i trasporti, ferroviario, locale ed aereo, la scuola, la sanità, la pubblica amministrazione. Le principali rivendicazioni riguardano la lotta al precariato e l'abrogazione della legge Fornero e del Jobs Act. Ma per chi deve recarsi al lavoro o portare i bambini a scuola non è tutto così chiaro. Ma senza rendere bene noti i motivi e con una ripetitività che sta avendo stressa solo i cittadini e non fa condividere i motivi della protesta. Lo sciopero porta disagio, questo è scontato. Un po' che è così. Sino poi la gente non lo sa, con tutto che c'è lo sciopero la gente non lo sa. Per il trasporto ferroviario lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri e durerà fino a questa sera alla medesima ora. Ferrovie dello Stato ha reso noto che le frecce dell'alta velocità circolano regolarmente mentre per i treni regionali sono garantiti solo i servizi essenziali. Manifestazioni si sono svolte a Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Taranto, Palermo e Catania. Ci sono oltre 3 milioni di disoccupati, affermano i sindacati di base, e col Jobs Act siamo tutti licenziabili. In attesa ancora del giudizio sull'Italia dell'agenzia di rating Standard & Poor's continuano le polemiche a distanza tra l'Europa e il governo italiano sulla manovra finanziaria e fa discutere anche l'annuncio del Premier Conte sul gasdotto TAP. Ce ne parla Augusto Canterno. Si alza il livello dello scontro, dopo Bruxelles la volta di Francoforte al governo non piacciono le parole del Presidente della BCE Draghi che mette in guardia dei rischi per banche e famiglie provocato da un incremento incontrollato dello spread. A Draghi risponde ancora il Vice Presidente del Consiglio di Maio con parole particolarmente dure. Avvelena il clima e i ministri tedeschi ci rispettano di più, attacca il leader pentastellato. Anche l'altro Vice Presidente del Consiglio, Salvini, rassicura che tutte le banche saranno protette in caso di necessità, nessuna salterà. A momenti dovrebbe arrivare il giudizio dell'agenzia di rating Standard & Poor's e dopo quello di Moody's potrebbe esserci, anzi è quasi certo, un nuovo declassamento per l'Italia e conseguente pressione sui titoli di Stato. Ma all'interno della maggioranza, in particolare tra i 5 stelle, restano le tensioni sul decreto Genova in cui sono previste misure per la ricostruzione delle zone terremotate di Ischia. Non contiene alcun condono perché il condono è una legge che è stata fatta in passato. Noi velocizziamo soltanto le pratiche per le case che sono cadute per il terremoto. Sulla vicenda Tappi, il gas d'otto transadriatico, invece, il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato che l'opera andrà avanti, non si può interrompere per i costi insostenibili e rassicura l'impegno del Governo a sostegno delle comunità locali interessate della Puglia. Nel weekend in tutta Italia le temperature si abbasseranno, segnale che l'inverno ormai è dietro la porta. Allora vediamo con Alessandra Camarca quando possiamo accendere riscaldamenti e come risparmiare. Quando si accendono i termosifoni è bastato il minimo calo delle temperature con annessa a fine delle ottobrate romane e con le prime piogge d'autunno in diverse aree del paese a far rispuntare puntuale, come ogni anno, questa domanda. A voler guardare il lato negativo parliamo però non solo di riscaldamento e di serata in famiglia, seduti sul divano scaldati dal termosifone, ma anche e soprattutto di consumi energetici e di un dispendio di denaro inevitabile. Ma risparmiare è possibile. Anzitutto rinfreschiamoci la memoria. Quando si possono accendere riscaldamenti? Una legge del 1993 ha suddiviso l'Italia in sei zone. La zona A è la più calda, 6 ore al giorno dal 1 dicembre al 15 marzo, solo 6 comuni tra cui Lampedusa e Porto Empedocle. La zona B sono le aree costiere di Sicilia, Sardegna e Calabria, 8 ore al giorno dal 1 dicembre al 31 marzo. La zona C sud e aree costiere Lazio Meridionale, 10 ore dal 15 novembre al 31 marzo. La zona D, centro, centro nord e isole maggiori, 12 ore dal 1 novembre al 15 aprile. La zona E comprende Appennino, Pianura Padana e aree subalpine, 14 ore dal 15 ottobre al 15 aprile. La zona F, le Alpi e alcune aree appenniniche. In queste zone non c'è alcuna limitazione. Scopo di questa misura è il risparmio energetico, ma se vogliamo mantenere calda la nostra casa, ci sono anche altri accorgimenti che possiamo prendere. Ed è l'Agenzia Nazionale Enea a fornire consigli. Tra questi i principali sono fare manutenzione agli impianti, che in un effetto la manutenzione del proprio impianto rischia una multa a partire da 500 euro. Controllare la temperatura degli ambienti, perché scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche. La normativa consente la temperatura fino a 22 gradi, ma ne bastano già 19. Negli Stati Uniti adesso, dove la polizia ha arrestato un uomo nell'ambito delle indagini sui pacchi bomba inviati nei giorni scorsi ad esponente democratici e alla CNN. L'identitite del sospettato lo vediamo con Luigi Ferraglioni. Il presidente Trump lo aveva promesso ed è realmente arrivato in meno di una settimana l'arresto del presunto attentatore dinamitardo negli Stati Uniti. Si chiama Cesar Sayoc Junior, ma di giovane ha solo il nome, per chi ha oltre 50 anni e la fedina penale è già macchiata per uso di esplosivi. L'FBI lo ha affermato a Plantation, in Florida, intorno alle 17 italiane. L'indagine si è subito concentrata sulla Florida perché tutti i pacchi sono stati spediti da uffici postali dello Stato sempre al sole. Cruciale sarà poi il controllo del DNA. Pare che ci siano delle tracce fisiologiche sulle presunte bombe. Al tempo stesso gli artificieri hanno proseguito nella verifica degli ordigni, probabilmente solo delle coppie di vere bombe. Infatti contenevano polvere nera e schegge di vetro. Tuttavia erano prive di innischi o detonatori e chi le ha costruite ha compiuto una serie di errori tecnici. Nelle ultime ore erano arrivati altri due ordigni, una al senatore Cory Booker e una seconda all'ex capo dell'intelligence James Clapper. I loro nomi si sono aggiunti a quelli di Clinton, Obama, Biden, Robert De Niro, CNN, eccetera. Su Sayoc girano molte informazioni non verificabili. Su Facebook ha sostenuto di essere membro della tribù seminole, però su LinkedIn si è definito filippino. Culturista avrebbe lavorato, forse, in locali di Spogliarello, mentre più volte è indicato come professione quella di manager. Trump, parlando della Casa Bianca, ha ringraziato le forze di sicurezza e ha affermato che si opporrà in ogni modo alla violenza politica. Useremo la massima severità. Atti come questi non possono avere spazio in America, quindi ha aggiunto che in questi casi bisogna restare uniti. Brasiliani alle urne domenica per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Carlo Petrini ce ne parla oggi, nel suo minuto. Le elezioni in Brasile ci consegnano un quadro preoccupante. Se le intenzioni del candidato Bolsonaro si realizzassero, sarebbe come un ritorno al passato, un ritorno a quel periodo dove i militari hanno governato il Paese, lasciando la democrazia in ginocchio. Ma c'è di più. Nelle intenzioni di Bolsonaro, la questione dell'ambiente e degli indios sono assolutamente irrilevanti, al punto tale che gli pensa seriamente di poter far a meno di difendere i diritti degli indios e di tutelare la foresta amazzonica. Questo avrebbe ripercussioni non solo per il Brasile, ma per il mondo intero. C'è da essere molto preoccupati. Il telegiornale finisce qui, ma rimanete con noi perché adesso c'è Guerra e Pace con Antonio Soviero. Vi ringrazio per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Grazie.